Oggi siamo in unissimo video e ragazzuoli Stiamo giocando a Fortnite, come vedete Scusate ragazzi se non sono riuscito a portare in questi giorni video Però non mi riusciva ad entrare su Fortnite Ho avuto un sacco di impegni, un sacco di compiti Quindi ragazzi questo è uno dei primi giorni che riesco a giocare Poi quando ho giocato mi uscivano delle partite che facevano più che schifo Quindi raga non volevo metterle Quindi speriamo bene in questa Sto giocando in ranked, sono argento 3 Ok Ok No cos'è sono risalito Sta arrivando ancora una marea di gente Speriamo che venga qua, almeno le bombo Dai Ho la mira, penso io che C'è la migliore in quei mahi No Ok ho fatto uno Ce ne ho noto qua Fatto, buono Ok è buonissimo ragazzi Siamo già fatti due kill Due kill portate a casa Speriamo bene Dopo argento c'è oro No ragazzi Non mi ricordo Però penso proprio di sì 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 Mi sa di sì che c'è oro Oh regà ce l'abbiamo fatta a trovare un pompa Comunque ragazzi è da dirlo eh Questa season le armi sono craccatissime Nooo Mannaggia Vabbè Me lo faccio Allora Guardiamo questo qua No dai Ti tengo questo Praticamente regalo a K47 Sparano Io regà Andrei Vediamo qui sì Almeno Vado a fare Un po' di uccisione Io che spanno mi lascio il più di qui Guardiamo Se c'è veramente qualcuno Oppure è stato un prank Ok allora regà Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Stai con me, ragazzi Ecco l'ho visto L'ho visto? No, no No No